Picchiata e bastonata dal figlio che aveva avuto per questo ricevuto nel 2019 un divieto non ottemperato in più occasioni di avvicinarla, per questo un 34enne di Valdagno trovato ieri a casa della madre a Cornedo è stato arrestato, le botti, i maltrattamenti e la situazione di terrore in cui viveva la donna erano iniziati anni fa, tanto che ZM di Valdagno a partire dal 2019 era stato allontanato dall'abitazione in cui conviveva con la madre a Cornedo Vicentino aveva ricevuto dal giudice il divieto di avvicinarsi a lei proprio a causa delle violenze, ieri pomeriggio l'arresto da parte dei carabinieri della stazione di Valdagno è scattato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, l'uomo più volte da quando ha ricevuto il divieto di avvicinamento lo ha trasgredito tornando nell'abitazione facendola ripiombare in un incubo. Anche ieri il 34enne è stato rintracciato presso l'abitazione della donna e proprio tali violazioni degli obblighi imposti dalla legge hanno portato all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita ieri pomeriggio. Al termine delle formalità di rito ZM è stato portato presso la casa circondariale di Vicenza ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per i provvedimenti del caso. Grazie a tutti.